Imprenditori agricoli senza titoli che truffavano lo Stato e l'Unione Europea. Sono 25 gli arresti su tutto il territorio nazionale, 75 soggetti coinvolti tra enti e persone fisiche. L'operazione denominata dalla Guardia di Finanza Transumanza ha smantellato da Nord a Sud un network criminale da oltre 5 milioni di euro, sottratte ai fondi pubblici per l'agricoltura. Tra i reati ipotizzati, autoriciclaggio, riempiego di proventi illeciti, ricettazione e truffa aggravata ai danni dello Stato. 16 le perquisizioni e sequestri preventivi effettuati in diverse regioni italiane da Abruzzo e Puglia, Trentino, Alto Adige e Lombardia. Grazie anche al supporto aereo del reparto operativo Aeronavali di Pescara, si sospetta l'influenza della cosiddetta mafia foggiana, si legge nel comunicato delle fiamme gialle di Pescara coordinate dalla direzione distrettuale antimafia dell'Aquila, in quanto sono stati coinvolti e anche affiliati organizzazioni criminali del Gargano. L'indagine, che ha avuto una durata di due anni, ha visto la collaborazione di diverse unità specializzate, ha incluso l'analisi di oltre 100 mila conversazioni intercettate, l'esame di 8 mila dati bancari e il controllo di più di 270 conti correnti. Al centro della truffa la manipolazione dei requisiti necessari per accedere ai contributi del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia nel quadro della politica agricola comune. Le imprese agricole fittizie collaboravano con diverse società cooperative agricole per ottenere la concessione di terreno uso civico attraverso bandi comunali. Sono 24 le imprese agricole e 38 i soggetti a cui sono stati sequestrati i beni.